Ho scelto questo quadro di Jacopo Bassano perché è una natività e perché Jacopo Bassano comincia probabilmente la sua stessa carriera di pittore a fianco di suo padre Francesco con una natività. Nel 1525 Francesco Bassano riceve una commissione per una pala che doveva raffigurare la natività in un paese vicino a Bassano a Valstagna. L'opera che noi abbiamo vicino è un dipinto che già nel 1650 si trovava nella collezione di Scipione Borghese e si trovava proprio in questa villa perché viene elencata fra i quadri appartenenti alla mano di Jacopo Bassano vecchio e come appunto lo chiama il Bassano vecchio come lo chiama Jacopo Manilli, l'estensore della guida del 1650. Quindi è un'opera che sicuramente ha un senso per la carriera, il cui soggetto soprattutto ha un senso per la carriera di Jacopo ma è un'opera che da tantissimo tempo si trova in queste sale e quindi diciamo se non proprio esattamente qui in delle sale vicino. Questo ci fa pensare che Jacopo Bassano che certamente nella seconda metà del Cinquecento contemporaneo di Tiziano, di Veronese, di Tintoretto, un pittore che aveva creato una nuova maniera come dicono molti dei suoi biografi, era riconosciuto come un pittore importante del Cinquecento veneziano già nelle collezioni romane. Quindi diciamo riportarlo, riparlarne oggi e qui in prossimità appunto del Natale sicuramente riporta Jacopo da un lato nel suo contesto di inizio carriera ma lo riporta anche nel suo contesto di successo seicentesco, nelle collezioni seicentesche. Allora forse ci dobbiamo chiedere perché. Molto spesso la profondità, la profondità delle risposte sta sulla superficie e direi che in questo quadro è davvero sulla superficie. Guardiamo prima di tutto come il pittore ha organizzato la composizione è una composizione davvero originale in cui le figure sembrano tutte quante in movimento e soprattutto è una natività con i pastori, un'adorazione dei pastori ma se noi guardiamo bene il pastore in primo piano che è proprio adagiato lungo il primo piano dell'opera e sta suonando il flauto quindi sta cercando di intrattenere probabilmente il bambino di farlo giocare c'è questo tono molto familiare e a volte anche molto quotidiano, campestre in tutti i quadri di Jacopo Bassano e qui infatti vedete che anche gli animali hanno una loro, veramente una presenza nello spazio che ce li fa immaginare come dei protagonisti della scena. Questa capacità di rendere con grande naturalezza il paesaggio, gli animali, i personaggi viene riconosciuta a Jacopo Bassano da tutti quanti i suoi contemporanei, le fonti l'uso fresco, vivace del colore, l'uso della luce e anche questa capacità di rendere così affusolate le sue figure e così aggraziate le figure femminili. Si è parlato di un riferimento a parmigianino per questo volto allungato della Madonna Guardate la figura della Vergine, della Madonna giovane che è sempre intenta in questi dipinti della natività di Bassano a circondare con le bende oppure con dei lenzuoli il corpo del bambino e poi vi vorrei riportare in questa stanza che conserva anche diciamo altre allusioni a questa stagione con tutti quanti le allegorie nelle paraste che sono le allegorie dei mesi e con un'allegoria del tempo come noi vediamo nel soffitto che è un'allegoria dipinta nel 1782 da Domenico Corvi vi vorrei riportare invece dall'insieme al dettaglio e quindi guardare attentamente al centro in alto di questo quadro e questo albero solitario con la sua ombra. Questo diciamo è uno di quei dettagli appassionanti nei dipinti di Jacopo Bassano, quei dettagli in cui si gioca con il colore, con la luce e molto spesso si ha l'impressione di essere in un luogo preciso, in un luogo determinato anche se poi questo luogo e questo momento rimangono inafferrabili.